Ed eccoci a questa quinta e ultima puntata per questa settimana in questo nostro spazio fatto di ricordi e musica che ci portano entrambi oggi ad appena dieci anni fa, ma si sa che ormai il tempo vola e sempre più veloce e intanto dieci anni oggi non sono come quelli di qualche decade fa quando la velocità aveva ritmi più pacati come dire o comunque il tempo scorreva o sembrava scorrere meno rapidamente. Sembra passato infatti molto tempo da quando sono usciti i titoli di cui parliamo oggi. Si tratta comunque di tormentoni come stiamo facendo in questi giorni. Siamo in piena estate che significa vacanze, mare, montagna, lago e appunto una colonna sonora fatta da quelle canzoni che ormai da maggio fino a settembre suonano e risuonano nelle radio, nelle discoteche, nei locali e anche nelle nostre teste. Non importa se il brano è bello, l'importante è che rimanga in testa al ritornello e che in qualunque momento della giornata al bar o sotto l'ombrellone lo si possa cantare. Beh, vi ricordate tutti i maggiori successi dell'estate del 2013? Tra le canzoni più programmate, dalle radio e ballate in discoteca, ecco che ricordiamo Lady Gaga con Applause, Katy Perry con Roar, Ellie Goulding con Burn, Empire of the Sun con Alive, Robin Tickey con Pharrell, Blurred Lines e poi ancora Calvin Harris con Ellie Goulding con I Need Your Love. E come dimenticare i Bastille con Laura Palmer, Max Pezzali con L'Universo Tranne Noi o Marco Mengoni pronto a correre e ancora Rossa Ramazzotti con Nicole Scherzinger con Fino All'Estasi. Insomma, l'elenco è davvero, davvero lungo. Ma se le canzoni sono tante, quelle che si ascoltavano dieci anni fa, noi ne abbiamo scelta una in particolare o meglio un'artista oggi, Lady Gaga con Applause. Per lei erano già passati sei anni dall'esordio, esattamente nel 2008 con la pubblicazione del suo primo singolo Just Dance che diventa l'anno seguente il quarto brano più venduto, raggiungendo la prima posizione in diverse classifiche mondiali. E sempre nel 2008 era uscito il suo primo album, The Fame, che grazie proprio a Just Dance, Poker Face e Paparazzi aveva trionfato ai Grammy nelle categorie della musica dance ed elettronica. E poi sappiamo che nel corso degli anni Lady Gaga di fatto non ha smesso di mietere successi, ma quella Just Dance merita oggi di essere riascoltata come primo esempio di una canzone di un artista che ha saputo farsi apprezzare a dispetto delle previsioni. Ricordiamo che inizialmente infatti c'era chi non avrebbe scommesso molto su Lady Germanotta e invece è una chiara canzone, Just Dance, proprio come dice il titolo, di Genere Dance, tanto che nel 2009 ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria Miglior Registrazione Dance, ma ha anche totalizzato quasi cinque mesi di permanenza nella Billboard 800, per poi approdare la vetta della classifica anche nel gennaio del 2009. Ad agosto del 2009 con più di 4,4 milioni di copie è diventato invece il secondo singolo di successo più venduto di sempre negli Stati Uniti e il quarto singolo più venduto nel mondo con 7,7 milioni di copie. Nel 2015 infine erano stimati circa 10 milioni di copie vendute nel mondo e appunto a questa canzone, Just Dance, abbiamo deciso di dedicare la coda finale, quella in musica e con la voce di Lady Gaga e le note di questa canzone. Buon ascolto!